Dove hai fatto il GC? A Lausanne, in Svizzera, in Scozia, in Nuremberg, a Germania. Faticoso? Sì, molto. Sì, è stato impegnativo. Lo rifaresti? Allora, a livello di esperienza sì, ma a livello di fatica, come l'ho finito, ho veramente pregato di non dover più fare un'esperienza simile. Sì, certamente lo farei. Sì, in un'altra vita, perché è un'esperienza lunga, dura, bella da un punto di vista umano e tecnico sicuramente, però non vedi l'ora che finisca. Cosa hai imparato che ha fatto la differenza come istruttore? Come istruttore, io ho imparato che l'istruttore è una persona al servizio dell'allieve. Noi siamo dei tramiti per gli allievi, di conoscenza che non è nostra. Assolutamente tutto. Da cosa vuol dire insegnare, a cosa vuol dire, più che insegnare, trasferire le conoscenze ad altre persone. una cosa completamente diversa da quello che può essere un corso regolare. Grazie. 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 Grazie.